La Regione sta riorganizzando il proprio patrimonio immobiliare. La Direzione Generale dell'Asur si è trasferita in via Oberdan ad Ancona, nello stabile della Regione. 700.000 gli euro di affitto risparmiati, 90 le persone impiegate nel centro del capoluogo, un milione di euro di lavoro di ristrutturazione e riqualificazione finanziati dai fondi comunitari per l'efficientamento energetico. Lo stabile è stato ristrutturato ed è operativo. Nel corso della cerimonia inaugurale avvenuta mercoledì 30 marzo, il Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha ricordato come la nuova sede di proprietà della Regione permette all'Asur di sviluppare la propria progettualità, crescere all'interno di questo spazio man mano che si unificano i servizi su base regionale ed essere sempre più un'azienda vera e propria, portando efficienza e qualità nel lavoro. L'assessore al patrimonio, Fabrizio Cesetti, ha ricordato che si sta andando verso la valorizzazione del patrimonio regionale per risparmiare risorse da destinare ai bisogni della collettività. In dieci mesi i provvedimenti della Giunta in merito ai fitti passivi hanno comportato minori spese per circa 1,8 milioni di euro l'anno. L'immobile è stato dato in concessione d'uso gratuito all'Asur per sei anni con un contratto sottoscritto nel mese di novembre scorso. L'Asur, con fondi propri, ha provveduto dallo scorso mese di dicembre ai lavori di completo adeguamento dell'immobile alle proprie esigenze operative.